Ciao amici di chitarre, sono Simone Gian Lorenzi e vi do il benvenuto allo speciale chitarre. In questa parte io mi occuperò appunto della sezione pop rock. Ho creato per cui un arrangiamento di un brano basato su quattro semplici accordi e l'ho vestito appunto di chitarre sfruttando alcune tecniche e caratteristiche tipiche del chitarrismo pop rock. Sicuramente su Chitarri Medicola questo mese trovate tutto ampiamente trascritto, commentato e documentato. Io vi do appuntamento al prossimo mese, appunto al mese di settembre e vi auguro una buona continuazione di estate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.